E' un invito a tutti per tenere il fiato sul collo ai vecchi proprietari e perché si concluda rapidamente la trattativa con i nuovi investitori senza perdere un minuto di tempo. Bisogna tenere gli occhi aperti e il fiato sul collo perché non ci siano perdite di tempo e distrazioni. Veramente è arrivato il momento di farla finita. Voltiamo pagine e ognuno sia responsabile e nessuno cerchi in queste condizioni di tirare la corda o di fare perfino affari. In queste condizioni bisogna solo coprire i debiti, punto e basta e ringraziare chi decide di venire ad investire a Salerno e decide di venire a Salerno per una ragione fondamentale, perché a Salerno c'è il comune di Salerno e c'è questa città meravigliosa, altrimenti non gli passerebbe bene anche per l'anticamera del Cerver di venire ad investire a Salerno. Non so se chi è. Ti auguriamo, ovviamente, che si concluda tutto, rapidamente. very bene, grazie. Una copia che conosco ci avranno la mia età. Come va, salutano. Così io vedo le fedi alle vita di due. Che porco Giuda potrei essere io qualche anno fa Gli anni d'oro del grande real Gli anni di api dei sedi ravval Gli anni delle mese compagnie Gli anni monorino sempre in blu Gli anni di che belli erano i film Gli anni dei roi Rogers come Gis Gli anni di qualsiasi...